Dopo la protesta, la seconda in un'anna laterina, paese natale della ministra e della famiglia Boschi, le vittime del salvabanche hanno fatto irruzione a Pontassieve alle porte di casa del premier Matteo Renzi. Un altro fine settimana di protesta per i tanti risparmiatori azzerati, questa volta però a differenza delle altre manifestazioni che si sono svolte in varie città toscana e del centro Italia, si sono registrati alcuni attimi di tensione. Le forze di polizia infatti hanno impedito ai manifestanti di avvicinarsi all'abitazione del premier. Ne è nata presto una collutazione che ha avuto come conseguenza momenti di forte tensione e qualche piccolo malore dovuto a detta dei manifestanti che non hanno tardato a documentare la giornata sui vari social network. La manifestazione di questa mattina a Pontassieve ha chiamato a raccolta alcuni membri dei vari comitati delle vittime delle banche venete e circa 40 risparmiatori di banche trule arrivati da tutta la Toscana. È un continuo, siamo stati alla Terina, erano più i poliziotti compresa la forestale, erano più i poliziotti che i manifestanti. Qui ci mettono in una piazza, io non ero mai stato a Pontassieve, siamo sicuramente ai margini del paese, non possiamo uscire da qui, ci sono macchine della polizia, ci sono agenti in borghese, per il momento sono più di noi, poi sicuramente aumenteranno i protestatari, però è una cosa ridicola, cioè che in un paese dove te vedi calpestati i tuoi diritti ti trovi a essere costretto in uno spazio dove puoi manifestare solo in una certa maniera, non puoi fare un corteo, niente, non puoi coinvolgere nessuno. Questo non è più democrazia.